ciao a tutti ben ritrovati nel latte di romi e un ciao un saluto grande da michela e da roberto allora oggi voi sapete che mercoledì fino ad ora per 12 settimane c'è stata la categoria start up ora la categoria è completata e conclusa e se volete potete andare a rivedere tutti i video o soltanto quelli che vi più vi interessano proprio nella playlist start up e li troverete tutti suddivisi per argomento e adesso il mercoledì avremo degli appuntamenti vari oggi è un appuntamento bonus perché bonus si parlerà sempre di face o body painting bonus perché è un appuntamento extra e che uscirà ogni mercoledì sempre alle 22 30 quindi ricordatevi questa cosa molto importante adesso i video hanno cambiato il loro orario di pubblicazione e usciremo sia il lunedì mercoledì che giovedì alle ore 22 30 però mi raccomando seguiteci tutta la settimana perché ci saranno tante tante altre iniziative che piano piano vedrete insomma sta arrivando la primavera marzo quindi ci sono tante 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 novità allora oggi andiamo a parlare dei tattoo temporanei ecco vi faccio vedere un pochino me lo stavo disegnando che cosa sono i tattoo temporanei allora i tattoo temporanei sono più o meno molto simili ai tattoo quelli all'enne quelli che vedete magari anche fatti sulla spiaggia eccetera ora non utilizzeremo le ne a parte perché è stato visto che crea tante reazioni allergiche a tante persone ma noi utilizzeremo sempre dei prodotti adatti per il corpo che sono certificati e non danno nessuna reazione allergica quindi potete usare tranquillamente chiaramente per sapere quali marco di lizzo dove andarli a comprare scriveteci una mail la nostra mail è l'arte di romi chioccio la gmail.com allora andiamo a vedere subito i materiali che utilizziamo utilizzeremo per appunto i tattoo temporanei allora eccola qui questa è una penna diciamo una penna particolare formata da un serbatoio ecco io svito la parte sopra è conservatoio vedete così trasparente dove io andrò a mettere il colore poi avvito a scusate mi ha fatto vedere un pennino all'interno eccolo qui che va avvitato sopra e poi questo pennino lo apriamo e c'è una punta eccola qui sottilissima diciamo che è poco più grande di un capello però veramente molto 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 sottile e che sarà la nostra pennina per realizzare appunto i tattoo temporanei poi diciamo quando acquistate la penna troverete anche io ve lo faccio vedere nella zona di qua vicino un ferretto molto molto sottile che vi faccio vedere comunque lo troverete attaccato al tappuccio della penna ecco con uno scotch ora in genere si perde sempre però fate i bravi cercate di non perderlo perché servirà a stappare diciamo il la parte qui del pennino qualora vi si otturasse con il colore quindi è molto 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 importante quindi cerchiamo di non perderlo da ogni modo se doveste comunque perderlo come spesso accade anche a me e potete fare con uno spillino oppure dopo vi faccio vedere come pulire bene la nostra penna vi faccio capire come poterlo stappare senza questo se per caso ci siamo verso questo è un tappetto qui non c'è niente questa parte dentro questa è la penna e poi ci sono queste queste confezioni così chiaramente io ho coperto qui la marca che sono diciamo una confezione simile allo smalto poi ve la faccio vedere meglio nel tutorial e dove che contiene il colore ci sono una marea una marea infinita di colori e quello che io spesso utilizzo è un colore marroncino che è molto simile all'ennè quindi mi dà lo stesso effetto dell'ennè chiaramente possiamo trovare il nero il rosso il bianco che è molto bello e il viola che io adoro però ecco ci sono tantissime gradazioni però devo dire che quella che utilizzo di più e soprattutto mi viene più richiesta perché come vi ripeto molto simile all'ennè è un marrone un marrone molto 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 scuro però veramente veramente questa questa tecnica questa questo body painting chiaramente eviterò poi di farlo sul viso questo body painting è utile tantissimo d'estate lo potete veramente vendere per eventi in discoteca per eventi sulla spiaggia è veramente proprio bello richiesto è facile cioè non non proprio facilissimo da realizzare però sicuramente una volta presa la mano è molto diciamo è molto più semplice di un pennello perché abbiamo proprio una penna in mano quindi e poi vi faccio vedere che cosa dobbiamo avere diciamo il nostro kit per appunto il realizzare dato temporanei allora ci teniamo da parte dei cotton fioc e poi dei dischetti quelli diciamo per il make up per togliere il trucco alcol alcol edilico con cui colorosa e poi lo scottex scottex normale tranquillamente adesso e dopo che vi ho fatto vedere tutti quanti i vari materiali andiamo a vedere il tutorial e vi faccio vedere come come si realizza e dopo ci ritroviamo qui perché vi faccio vedere nello specifico la pulizia del dei materiali che è molto molto importante a poco ecco qua prima di tutto vi faccio vedere la preparazione della nostra penna allora la prima cosa che devo fare è svitare ecco qui dove troviamo questo pennino questo pennino ci può servire in caso di otturazione del della punta quella piccolina principale e quindi diciamo possiamo ovviare con questo se non abbiamo questo qui questo famoso lo faccio vedere veramente piccolino ecco l'abbiamo visto prima forse sulla mano riesco a farvelo vedere meglio eccolo qui quindi se per caso ce lo siamo perso e quindi non riusciamo a asturare il il buchino qui possiamo in in corso lavoro ovviare e utilizzare questo questo famoso pennino che si trova all'interno quindi andiamo atto a rimuovere la parte superiore ora io ve lo faccio vedere questa è una pennina nuova ve lo faccio vedere su una pennina già utilizzata che appunto io utilizzo proprio per questo colore che è il colore più o meno delle n quindi stessa cosa ecco qui svuoto che abbiamo all'interno del pennino questa la vedete un po rossa perché chiaramente il colore la plastica la un po un po macchiato il colore va agitato io già l'ho fatto precedentemente ok si presenta come vedete come uno smalto diciamo con il pennino con uno smalto questo e piano piano vado a far cadere un po di prodotto all'interno della della pennina ecco qui chiaramente non dobbiamo riempire tutta tutta la pennina perché dopo lo andremo di nuovo a riversare nella nella boccettina però non lo versiamo tutto perché man mano che ci occorre lo andiamo comunque a rimpizzare come si dice a rimboccare quindi ne metto una piccola quantità ecco e poi questo lo chiudo e l'ho messa veramente poca poca perché comunque ne basta veramente pochissima per realizzare tutto un tatuaggio eccolo qui adesso vado a mettere la pennina e chiaramente avvito mi tengo sotto mano lo scottex perché a questo punto vado a stapparla e comincia a far scendere il colore vedete che già comincia a uscire da solo quindi io mi devo tenere sempre lo scottex proprio per evitare di fare dei tratti troppo grossi proprio perché il diciamo l'inchiostro chiamiamolo così già mi fuoriesce quindi poi quando vado a fare il tratto dovrò dosare bene perché chiaramente altrimenti mi viene una super goccia quindi io lo pulisco e subito vado a fare il tratto e allora potrò fare un tratto molto molto sottile vede anche quando ecco vado a fare i disegni devo essere diciamo più o meno molto molto veloce perché altrimenti mi viene un tratto cicciottello allora nel frattempo io non la dove non la metto con la punta verso l'alto in modo che così non mescola il colore vi faccio vedere un'altra cosa che è importante allora vi faccio vedere come rimuovere ve l'ho già fatto fatto vedere i prodotti prendo l'alcol etilico quello rosa si prende un dischetto bagno il dischetto e tranquillamente voi pensate di ciò che ma adesso ancora un bagnato e quindi si toglie facilmente ma in realtà si toglie così anche quando è completamente asciutto ecco vado a fare così e lo rimuovo tranquillamente senza creare né irritazioni né problemi alla pelle perché comunque l'alcol è comunque un disinfettante quindi ecco qui e quindi non si vede niente adesso possiamo vedere proprio come poter realizzare uno dei tanti disegnini che possiamo realizzare sulla mano ecco qui allora fatto lo facciamo qui dalla parte del del polso salendo su per la mano mi tengo lo scottex a fianco sempre come dicevamo prima per pulire l'eccesso di colore mi raccomando non lo fate sul il dischetto il dischetto perché il dischetto a dei ai peletti dell'ovatta e quindi mi si attaccano sulla punta mi potrebbero fare dei filetti dei filamenti sul disegno che non sono carini quindi sempre sullo scottex perché è molto liscio teniamoci a portata di mano i coton fiocco come ho fatto vedere prima perché potete cancellare delle piccole cose magari che avete sbagliato in fase di disegno allora siamo pronti e partiamo con il nostro disegno allora siamo pronti e partiamo Grazie per la visione! 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 quindi veramente un argomento molto 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 bello vi ricordo che potete scriverci non solo alla mail ma anzi la ripeto la mail l'arte dirò mi piaccia gmail.com ma ci potete trovare sulla nostra pagina facebook è sempre al nome l'arte di nomi ed ancora su instagram sempre nome l'arte di romi e su tiktok il nome è sempre lo stesso noi siamo sempre io e roberto vi salutiamo vi ringraziamo vi aspettiamo per tutta la settimana con tanti nuovi video ciao